Occupiamoci dei ticket sanitari, una giungla spesso per i cittadini. Ci spiega tutto Francesco Maltoni. Spendiamo sempre più medicinali, ci affidiamo sempre meno alla sanità pubblica, ma, paradosso, un euro ogni tre sui ticket lo paghiamo per scelta. Nelle casse della sanità pubblica nel 2017 sono arrivati quasi 3 miliardi di euro, 47,6 in media pro capite. Ma non appena ci si addentra nella giungla dei ticket, il panorama appare tutt'altro che uniforme. In crescita costante gli acquisti di farmaci, che pesando per il 54% superano di fatto le prestazioni specialistiche, un totale di oltre un miliardo e mezzo. Tra questi spiccano i cosiddetti farmaci griffati, a scapito degli equivalenti meno conosciuti. È il Ministero della Salute a fare chiarezza sui cosiddetti medicinali generici, che presentano la stessa composizione in principi attivi, in forma farmaceutica, via di somministrazione e anche le stesse indicazioni terapeutiche di un farmaco di riferimento. Il costo però è assai inferiore rispetto ai prodotti originali, fino al 50% in meno, secondo l'Agenzia Italiana del Farmaco. L'Italia però è letteralmente spaccata in due. Sono le regioni infatti a definire soglie ed esenzioni. Sui ticket per prestazioni diagnostiche, ad esempio, in Veneto, Toscana e Val d'Aosta, la spesa pro capite oscilla tra i 35 e i 66 euro, mentre in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, crolla tra gli 8 e i 14. Meno costi però non significano migliore accessibilità. È proprio nelle regioni del sud che i pazienti sentono forte il richiamo alle strutture private. Ne parliamo con un ospite, Nino Cartabellota, presidente della fondazione No Profit GIMBE, collegato con noi. Buon pomeriggio. I dati analizzati al vostro osservatorio ci dicono che spesso i cittadini preferiscono pagare di più i farmaci di marca piuttosto che prendere gli equivalenti. Perché? In realtà in Italia esiste una grossa diffidenza per i farmaci equivalenti che tra l'altro sono anche definiti generici, un termine che probabilmente svilisce la qualità del farmaco in termini di efficacia, di sicurezza. E quindi il termine generico in qualche maniera porta il cittadino a diffidare di questa tipologia di prodotto. In realtà si tratta di farmaci a brevetto scaduto che vengono ovviamente sintetizzati con le stesse modalità dei farmaci brand e che non sono riusciti ancora a penetrare adeguatamente nel mercato nazionale visto che siamo sostanzialmente penultimi tra quei 34 paesi dell'Ocse con grosse differenze regionali. Anche però le prestazioni specialistiche spesso vengono fatte privatamente colpa di inefficienze, di troppi ritardi, liste d'attesa, di che? Le motivazioni sono differenti. In realtà le modalità con le quali viene oggi applicato il cosiddetto super ticket che in molte regioni ammonta 10 euro per ciascuna ricetta fa sì che per le fasce di reddito, in particolare quelle medio-alte il costo totale della prestazione nel pubblico risulta essere più elevata di quella del privato. Per cui il cittadino finisce per accedere alla prestazione della sanità privata che peraltro ha anche tempi di accesso e tempi di attesa sicuramente inferiori. Ma contribuiscono anche altri fattori, uno per tutti, il fatto che in generale c'è una tendenza di tutti i cittadini a voler accedere subito a delle prestazioni che magari non sono assolutamente indispensabili per la salute. Ecco, a questo proposito, data per ormai scontata l'importanza della prevenzione, c'è però un rischio di abuso di farmaci o esami diagnostici? In realtà sì, dei farmaci lo conosciamo da tempo perché assumere troppi farmaci aumenta il rischio di interazioni farmacologiche, diminuisce soprattutto nei pazienti con patologie croniche la compliance, cioè il fatto che il paziente riesca ad assumere quelli che sono i farmaci prescritti. Sono più recenti invece le conoscenze scientifiche sull'abuso dei test diagnostici perché fare troppi test non significa avere una maggiore probabilità di prevenire la malattia ma significa spesso identificare delle lesioni che non hanno nessuna tipologia di conseguenza per la salute della persona che però poi viene in qualche maniera incanalata in una sorta diciamo di sindrome di Ulisse alla ricerca di quelle che sono una serie di patologie inesistenti e quindi aumenta la quantità di test diagnostici effettuati, il rischio di effettuare trattamenti inutili che ovviamente hanno degli effetti collaterali, cioè in altre parole oggi in medicina si sta diffondendo sempre di più l'idea che less is more, cioè non è sempre meglio fare di più ma alcune volte bisognerebbe effettuare soltanto i testi che sono necessari per la propria salute. Grazie, grazie mille.